Ciao ragazzi, io sono Red e io sono War e abbiamo delle comunicazioni importanti da Darby. Voi notate che questo video è diverso dagli altri, ma non tanto per Allocation, ma perché è il secondo video che facciamo al mattino, insieme a quello dei regali di Natale e si vede proprio dalle nostre facce, quindi... Molti di voi avranno sicuramente visto il nostro ultimo video caricato, dove... Ah, sì, 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 sì. L'abbiamo anche provata, cioè, e avrete anche visto che abbiamo cambiato il nome al canale. Ma contestualmente quelli più svegli di voi e più fedeli di voi l'avranno visto cambiare anche su TikTok, su Instagram, su WhatsApp ufficiale del negozio. La risposta a questa e altre importanti domande ci sarà dopo la nuova sigla, che già di per sé dà una risposta parziale, se non... Quindi? Sigla. E intanto la sigla nuova è... Ma non è solo la sigla nuova, il nuovo logo... Il nuovo nome... Il nuovo nome... Ragazzi, il fatto che sia una figata spiega da sé perché è successo. Semplicemente, dopo tanti anni, abbiamo voluto... E sentito la necessità. Sì, perché crescendo la senti. Certo. Di sverchiarci un pochino, di darvi qualcosa in più, ma per farlo bisognava partire da un printing di attività un po' più tattico, un po' più... Sì, più mirato all'ambiente in cui volevamo gestire, anche perché, insomma, il software lo trattiamo, lo trattiamo tanto, però è diventata una parte di tutto quello che trattiamo. Lo avete visto anche nei video perché siamo concentrati anche un po' sulla difesa personale e anche molta attrezzatura, insomma, militare vera. Perché i nostri plate e la nostra collaborazione con Clow Gear o Templar Gear, che è abbastanza importante, infatti ve la portiamo spesso, insomma, sono dei prodotti di un certo livello. Sì, Monopoly, quello che era Monopoly, che adesso sarà M Tactical. Perché tutto questo è per dire che passiamo da Monopoly a M Tactical, la M chissà per cosa sta. Come ha detto Red, sì, sul Real abbiamo sempre lavorato anche con forze dell'ordine e militari, non militari, forze dell'ordine, contenti in tutta Italia, molto con i nostri brand Real e ecco perché ci è servito staccarci un po' da quello che è solo il software, che comunque... È l'80% di quello che facciamo, su YouTube sicuramente. Abbraccia tutto, perché abbraccia anche il Real, quindi ci siamo. Però anche il nome, colpa vostra, perché sono anni che ci sentiamo dire il nome pronunciato in modo sbagliato. Ora ci siamo detto, sai cosa? Cioè, abbiamo fatto questo piccolo aggiornamento che però, cogliendo la palla al balzo, abbiamo detto, cosa fai, cambi soltanto a brevi Monopoly e ci metti di fan con Tactical? No, fai un rebranding, ti trovi un logo che comunque rimane quello in modo tale che voi non vi sentiate spaesati perché torniamo a dire, non è cambiato nulla se non il nome e un paio di loghi qua e là. I prodotti sono quelli, noi non abbiamo cambiato sede, non siamo scappati a Dubai, non siamo scappati alle Cayman, siamo sempre qui, facciamo sempre le stesse cose, semplicemente volevamo un nome e un logo, una vibe generale un pochino più tattica, più mirata a quello che effettivamente facciamo. Ne vedrete delle belle perché il primo passo è stato darvi quell'assaggio di cambiare il logo sui social, cambiare la sigla, ok. Ci sono due video in arrivo che sono comunque di tutto rispetto. Esatto, per darvi il benvenuto. Esatto, quindi comunque abbiamo deciso di mantenere questo nuovo stile nei video che apparentemente vi piace molto, sia come qualità che come tipo di contenuto. Con la scusa, ci siamo detti, ma dobbiamo cambiare i loghi sul sito qua e là, sai cosa? Gli portiamo un sito nuovo, come abbiamo già fatto poi due annetti fa, quindi nei prossimi mesi si punta a farlo uscire per settembre, ottobre, comunque avrete un sito nuovo. Con la correzione di quelli che sono i piccoli bug che ha giustamente l'attuale sito, è improntata a offrirvi un'esperienza graficamente e anche proprio commercialmente più comoda, più user friendly. Probabilmente non si chiamerà Monopoly, sennò non ha senso aver cambiato tutto con lo sbattito, ma avrà un indirizzo diverso, poco importa perché tutti voi che andrete sui vecchi link di Monopoly comunque finirete sul sito nuovo, comunque il vostro account sarà sul sito nuovo, comunque tutti i vostri dati verranno semplicemente spostati. Sì, ci sarà un esodo al nuovo sito, ma verrà insomma guidato da un... E soprattutto in modo graduale, verrete cullati pian piano, al massimo vedrete qualche miglioramento qua e là, sia per chi viene a trovarci a Reggio Emilia effettivamente nell'attività fisica, perché vedrà anche in negozio qualche piccolo cambiamento, qualche miglioramento, sia per chi si ferma puramente all'esperienza online, perché anche lì a un certo punto si sveglierà e vedrà un sito nuovo. E dirà, l'importante è che vi ricordiate che se c'è il nostro logo, siamo noi. Ovviamente per i più golosi di voi arriveranno anche le patch nuove, che in realtà arriveranno a questioni di giorni, forse quando vedrete il video saranno già disponibili, comunque le troverete linkate qui sotto se ci sono, altrimenti tenete controllato il sito, tornate qui perché aggiornerò ovviamente i link. Che tra l'altro il merchandise è stato uno di quegli altri motivi che ci ha detto facciamo il power up perché l'avamo finito, dobbiamo fare quello nuovo, dobbiamo ridisegnare alcune cose. È inutile fare la 2.0. Facciamo direttamente con, cioè è stato un peso in più sulla bilancia del evolviamoci con logo e nome. Vi ricordo infine che dovete venirci a seguire tassativamente sui nostri nuovi Instagram e TikTok, anche qui grafichine molto interessanti, molto nuove che appaiono adesso a schermo, sono veramente incredibili in qualunque cosa che faccio. E ovviamente vi ricordiamo che per tutta la vostra attrezzatura da soft air, tattica, militare, outdoor, difesa personale, perché ce l'abbiamo qui davanti, la vetrina, difesa personale e polizia, tutto. Polizia anche, polizia, polizia e polizia. E beh tu pulisci l'angolo, no? Cioè ovviamente è un tactical shop. Tra l'altro, vabbè l'abbiamo tirata lunga secondo me anche abbastanza, questo era l'aggiornamento che vi volevamo dare. Se avete domande, dubbi, perplessità c'è il box, commenti, vi ricordo di lasciare un like. Sì ma probabilmente non ve ne fregherà una ceppola perché di fatto non sta cambiando niente. Anzi, abbiamo proprio approfittato del periodo estivo che è un po' più calmo di solito mentre voi siete al mare a fare i cavoli vostri per lavorare in background e migliorarvi tutto quanto per la nuova stagione. Detto ciò, noi vi ringraziamo di esserci venuti a vedere quest'oggi, non preoccupate se vi visse il da-da-da-da-da-da-da-da-da. Il video esce mercoledì, come state vedendo, perché volevamo buttare fuori l'aggiornamento abbastanza vicino all'altro video che è uscito sabato scorso. Se non l'avete visto andatela a vedere perché è un teaser fatto veramente con un gusto incredibile, sempre perché tutto quello che faccio è un livello fenomenale. Chi è il regista? Incredibile. Quindi andate a vedere quello, questo sabato non uscirà un video perché vi abbiamo un golosito con questi due qua, non vi preoccupate perché da sabato prossimo, quindi non questo, quello dopo, torneranno a uscire i video con la cadenza nostra solita e usciranno delle chicche molto importanti. Vi dico solo che il video di settimana prossima dura 25 minuti, ok? Ed è 25 minuti di montaggio bello serrato. Ah, ok, non quello fatto qui. No, quello fatto qui esce la settimana dopo. Ok, ok, ok. Sì, io ho ancora il segno. Anche io ho ancora il segno. Ok, perfetto. Qui da Red è tutto. Qui da Uore è tutto. E come al solito, stay angry.